Per mitigare gli effetti del caro bollette, Estra Energia ha sottoscritto con SACE un accordo per agevolare le richieste delle piccole e medie aziende di pagamento a rate delle fatture di energia elettrica e gas. Estra premia Enco Firenze, start-up virtuosa nel settore dell'energia, la premiazione nell'ambito del progetto Prisma, la casa delle tecnologie di Prato per nuove aziende innovative, a cui partecipa anche Estra. Lavoro in corso a Scandicci per la messa in sicurezza della rate gas a Labagnese, centri alla società di distribuzione di Estra, installa nel quartiere del comune fiorentino quasi 900 metri di nuove tubazioni. Torna a Rezzo Città del Natale con il contributo di Estra. Per tutto il periodo natalizio, fino a gennaio, la città si vestirà a festa e ospiterà tantissimi eventi, il Parco delle Meraviglie, l'attesa ruota panoramica.